Un caro saluto agli amanti del vino. Stiamo per degustare un vino rosso sardo proveniente dalla Romangia. Stiamo parlando del Renosu IGT Romangia delle tenute dettori in cui l'annata non viene specificata in etichetta ma noi sappiamo che si tratta di un 2009. La Romangia è la zona della Sardegna che sta esattamente rifronti all'isola dell'Asinara ed è particolarmente evocata per la produzione di vino. Ma passiamo alla nostra degustazione. Il nostro vino si presenta limpido ma non limpidissimo. Il suo colore è un rosso granato così come i suoi riflessi. E possiamo dire di essere di fronte ad un vino consistente. Ma passiamo ora all'esame olfattivo. Il vino si presenta intenso, complesso e di qualità eccellente. Ha un bocchetto di profumi estremamente ampio. Partiamo da un profumo floreale di lavanda. Proseguiamo con un fruttato di prugna. C'è anche un ampio bucchetto di frutti rossi. È sempre più intenso. Sentiamo poi delle note particolari, delle note di liquirizia. Avvertiamo anche della nocciola. note di cioccolato cioccolato ci danno questa sensazione di profumo di gianduia. Poi una speziatura di anice stellato. C'è anche una fortissima nota agrumata che ricorda tantissimo l'arancia candita. Ma passiamo ora all'esame gusto olfattivo. Il nostro renasso rosso non si presenta particolarmente secco. Ha addirittura una punta di avocado. È un vino sicuramente caldo e dà una notevole morbidezza. Quindi è sicuramente un vino morbido. È un vino dalla piacevole acidità che possiamo quindi definire fresco. Il suo tannino è molto morbido e si fa sentire esclusivamente sul finale. Quindi possiamo definirlo un vino abbastanza tannico. Mentre la sua mineralità è molto presente. Possiamo definirlo sapido e questo è sicuramente grazie al terreno serbioso. Possiamo quindi definirlo un vino di corpo. È un vino equilibrato, è intenso, persistente, di qualità fine, quasi eccellente. È un vino pronto che non ha necessità di imbicchiare ulteriormente anche se se lo può permettere. È quindi un vino armonico e il suo grado alcolico è di 14,5. La produzione di questo vino segue rigorosamente il decalogo della AAA, agricoltori, artigiani, artisti. Quindi non si tratta solamente di un vino biologico, ma un vino estremamente naturale, così come veniva prodotto nei secoli scorsi. Il renasso rosso incarna perfettamente l'idea del canonau arcaico, anche se i vitigni che lo compongono sono a prevalenza canonau, ma c'è anche una piccola percentuale di monica di Sardegna e anche di Pascale. Viene affinato esclusivamente in vasche di cemento e successivamente in vetro, quindi in bottiglia. I suoi migliori abbinamenti sono da ricercarsi sulle carni serbatiche, in particolare è ottimo con le carni di cinghiale, ma è ottimo anche con tutti gli stufati. La temperatura di servizio ideale è di 18 gradi, il bicchiere più indicato per gustarlo al meglio è un calice renano molto ampio, quindi il bicchiere tipico dei Pinot Nero Borgognotti. Il costo in una teca si aggira intorno ai 14 euro, mentre il punteggio che Divino Sapere assegna questo vino è 28 trentesimi. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima degustazione!